Il Consiglio Comunale di Vittoria approva una mozione unitaria contro i danni in agricoltura per il Presidente Anderni Cosia, quando in gioco l'interesse alla città c'è unità di intenti. In vista delle amministrative a Raguse il PD avvia i primi incontri con la sua delegazione trattante per il candidato sindaco Peppe Calabrese, occorre coinvolgere tutta la città. Togliete quei rifiuti alla Fiera Emaia, nuove idee democratici accendo un nuovo scontro con la maggioranza per la massiccia presenza di rifiuti lasciati nella zona dagli ambulanti. Il Presidente è la Camera di Commercio del sud-est Pietro Hagen in visita a Pozzallo, tra i temi affrontati con la locale Ascom e il lancio del porta a fini commerciali e turistici. Ieri a Ragusa campagna di sensibilizzazione influde e vaccinarsi importanti hanno ribadito i numerosi testimoni presenti, tra cui anche il sindaco di Vittoria Giovanni Moschiato. Benvenuto in un appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia. Nell'ultima seduta dunque il Consiglio Comune di Vittoria ha approvato una mozione unitaria sui danni in agricoltura. Quando giochi il bene della città, di carattere presente Andrea Nicosia, il Consiglio riesce sempre a compattarsi e a remare nella stessa direzione. Ancora la politica regionale, dice Nicosia, oggi più che mai ha il dovere di mostrare la propria vicinanza ad un territorio così duramente colpito. Giovedì sera il Consiglio Comune di Vittoria ha discusso le mozioni presentate dai gruppi di maggioranza, dal PD e dal Movimento 5 Stelle. Ognuno dei tre atti aveva come oggetto la richiesta alla regione siciliana della dichiarazione dello stato di calamità naturale, oltre a quella rivolta all'amministrazione comunale, di porre in essere tutte le misure idonee a dare un segnale di vicinanza alle imprese agricole coinvolte al recente maltempo. Quando ci sono in ballo gli interessi della città ed un intero comparto produttivo, ha commentato il presente Andrea Nicosia, il Consiglio ha sempre dimostrato unità di intenti e un alto profilo istituzionale. E anche in questa seduta tutti i gruppi presenti in aula hanno mostrato sensibilità e solidarietà nei confronti del comparto agricolo. Le tre mozioni sono state infatti unificate in un unico ordine del giorno, sottoscritto da tutti, e comunque dinanzi agli interessi della città non possono esistere divisioni. Nel documento approvato si chiede tutto allo stato di calamità di avviare interlocuzione con le istituzioni nazionali. Nicosia ha anche aggiunto che la deputazione regionale si sta già muovendo per chiedere risposte e sostegni concreti. La politica regionale, a dire del presente al Consiglio, oggi più che mai ha il dovere di mostrare la propria vicinanza ad un territorio così gravemente colpito. Nello Musumeci è stato proclamato oggi Presidente alla Regione Siciliana della Corte d'Appello di Palermo. Al momento della programmazione da parte del Presidente della Corte Matteo Fraschi, il nuovo governatore si è commosso. In prima fila nell'aula a Magna con Musumeci c'erano i familiari. Un applauso. Poi ha chiuso la breve cerimonia. Presenta un centinaio di persone. La delegazione trattante del PD di Ragusa ha avviato i primi incontri in vista delle prossime amministrative. Coinvolta anche la città per la creazione di un progetto che deve rimanere di centro-sinistra. La delegazione del PD, individuata nella riunione di direzione che ha indicato il segretario Peppe Calabrese, candidato a sindaco di Ragusa, ha già avviato i primi incontri con i gruppi politici che orbitano nell'ambito del centro-sinistra. Obiettivo del partito è cercare di concretizzare la prospettiva di una possibile coalizione coinvolgendo anche la città. Ciò non esclude, affermano dalla delegazione trattante, che anche componenti della società civile non possono avanzare richieste di incontro con il nostro partito e ciò ha lo scopo di individuare insieme quale via migliore intraprendere per arrivare a formare una coalizione. Si è anche disposti ai confronti quindi ad accogliere i ragusani nella loro interezza per trovare una sintesi anche attraverso le primarie. In poche parole abbiamo il candidato, dicono dal PD, ma intendiamo dialogare. Viene posta per una sola pregiudiziale, e cioè che venga fuori un progetto di estrazione di centro-sinistra. Ragusa ha infatti bisogno di essere rilanciata seguendo uno specifico progetto politico che non può che essere, che non ha questo marchio. Su richiesta di alcune famiglie residenti al villaggio degli Ulivi, il gruppo consigliare del PD di Vittoria con i consiglieri di Falcani-Casto, si è recato a fare un sopraluogo in questa contrada lungo lo stradale per Scoglitti. È stato constatato che ad alcune famiglie non arriva all'acqua da ben 10 mesi e non si capisce, dicono dal PD, il perché l'amministrazione comunale non abbia ancora provveduto ad ovviare al disagio. Tecnici del Comune che si sono limitati a dire del PD a prendere atto del problema, la risposta alle famiglie è stata che non ci sono soldi. E la presenza massiccia intanto di cumuli di rifiuti nella città delle Maia accende un nuovo scontro dalla maggioranza e opposizione. Per nuove idee democratici si è ancora in attesa il famoso cambiamento annunciato dall'amministrazione moscheto. Alla faccia del decoro urbano, ad una settimana dalla chiusura della 51esima campionare Maia, non si può fare a meno di notare una condizione devastante. È quanto affermano da nuove idee democratici a proposito ai notevoli cumuli di rifiuti che hanno sommerso la città della fieristica e per uno degli ingressi della città è davvero uno spettacolo da censurare. Siamo di fronte, rimarcano dall'opposizione, ad una totale mancanza di rispetto per i nostri cittadini e per l'ambiente circostante. Una mancanza di rispetto anche per gli studenti e insegnanti del liceo scientifico dal momento che, affacciandosi il cortile della scuola sulla fiera, assistono allo scempio lasciato dagli ambulanti lungo l'intera espositiva. Così aggiunge la mancata pulizia da parte all'amministrazione comunale. E questo sarebbe il tanto decantato cambiamento portato dalla nuova amministrazione per l'opposizione e invece l'ennesima promessa non mantenuta. Ed è facile in questo caso immaginare a chi toccherebbe una sanzione. Anche per l'anno scolastico corrente la compagnia carabinieri di Vittoria, nell'ambito del progetto cultura della legalità, ha organizzato una serie di incontri con gli studenti delle scuole primarie e secondarie presenti nel territorio. In particolare ieri il comandante della compagnia è capitano Daniele Plebani, ha incontrato insegnanti e alunni del risultato comprensivo Caruano, oltre che del plesso Radice. L'occasione si è iniziata a trattare il tema della legalità e della sicurezza, facendo comprendere agli studenti il delicato ruolo di operatore sociale svolto giornalmente dal carabiniere con la proiezione anche di un video illustrativo delle funzioni del reparto dell'arma dislocato in tutto il territorio nazionale. Il presente della Camera di Commercio a sud-est di Pietro Aghian è stato ieri a Pozzà l'obiettivo di rilanciare le prerogative del porto ai fini dell'inserimento in una zona economica speciale e quindi ai fini anche commerciali e turistici. Approfittando del confronto che il presente della Camera di Commercio al sud-est Pietro Aghian ha avuto col sindaco di Pozzallo, Roberta Ammatona, lascomo in cittadina ospitata il massimo vertice all'ente camerale nella propria sede sezionale. Presente in numerose addette al lavoro e dirigente al sistema Confu Commercio Ebleo, si è parlato soprattutto del rilancio del porto di Pozzallo al fine di rilanciare le prerogative in un prossimo inserimento nelle ZES, ossia zona economica speciale. Una struttura quella portuale che a fini commerciali, ha spiegato lo stesso Aghian, ha tutte le potenzialità per poter rendere cento volte di più. In questo senso la strada delle ZES, appunto le zone economiche, sembra esserla migliore, a patto però che si riesca a comprendere se ci sono le condizioni per attuarla. Dall'Assum quindi l'augurio del presente Gianluca Manenti affinché l'impegno di tutti in prima linea possa far raggiungere quello che gli operatori settori auspicano da tempo, e cioè il rilancio del porto a fini commerciali e turistici. La visita di Aghian e l'interessamento alla Camera di Commercio, a concluso Manenti, è già un primo importante segnale in questa direzione. A Ragusa si torna a parlare intanto dell'ex albergo San Giovanni e di quella che viene definita una ferita ancora aperta nel cuore del Centro Storico Superiore. Per il momento insieme, infatti, in cinque anni il sindaco Piccitti e i suoi collaboratori non hanno mai pensato a trovare una soluzione. C'è una ferita ancora aperta nel cuore del Centro Storico di Ragusa Superiore e di cui nessuno parla. È quanto affermano dal Movimento Insieme con riferimento all'ex albergo San Giovanni. Anni addietro, al centro di un'occupazione abusiva da parte del collettivo La Fabrica, e poi sfociata in una vicenda giudiziaria che fece molto discutere. L'immobile è rimasto abbandonato e, nei fatti, è il simbolo di un centro storico sempre uguale a se stesso e senza alcun sussulto. Per la consigliella comunale Elisa Marino non è possibile che in quasi cinque anni di attività il sindaco Piccitto o qualcuno dei suoi collaboratori non sia transitato da quelle parti. Possibile che questo sindaco non abbia la minima idea su come intervenire, magari avviando interlocuzione con l'ente proprietario dell'immobile o per un suo possibile recupero. Oggi tutta la zona sembra un dormitorio, denuncia la consigliera d'opposizione, mentre l'ex albergo avrebbe potuto essere utilizzato in mille modi per cercare di riattivare quella vivacità che c'era un tempo. Per cui sarebbe opportuno, conclude La Marino, di creare le condizioni affinché questo ruderi non continui a marcire sulla testa dei ragusani e il sindaco a preoccuparsi di capire come e in che modo intervenire. Adesso una pagina che riguarda la sanità in provincia. In tanti nuovi locali del pronto soccorso e l'ospedale Maggiore Amodica apriranno molto verosimilmente la prossima settimana. E questa è l'assicurazione che stamattina la senatrice del PD Venera Padua ha ricevuto al manager, al salvatore Lucio Ficarra, a conclusione di un incontro che la stessa parlamentare aveva richiesto affinché si facesse chiarezza sulla situazione molto precaria che riguarda il no so come. Al momento chiarisce la Padua, il pronto soccorso risulta appoggiato all'interno dei locali, per così dire di fortuna, sempre al piano terra del Maggiore. E ieri invece è stata poi la giornata denominata Inplu Day, i vertici dell'Asp, ma non solo, con autorità infatti testimoni della campagna anti-influenzale. In tanti, tra sindaci e amministratori comunali che si sono vaccinati, c'era il sindaco Moschero. Numerosi rappresentanti delle autorità in provincia, tra cui sindaci, amministratori comunali e forze dell'ordine, hanno partecipato attivamente anche come testimonial alla campagna anti-influenzale promossa dall'Asp. Il commissario Salvatore Ficarra per primo ha dato infatti l'avvio alla somministrazione del vaccino e a seguire anche gli altri presenti, tra i sindaci, quello di Vittoria Giovanni Moscato e di Modico Ignazio Abbate. Dall'Asp hanno quindi tenuto a ricordare che la vaccinazione rappresenta l'unico presidio per evitare di ammalarsi. Non è facile prevedere quando ci sarà il picco dell'influenza, però alcuni studi confermano che potrebbe avvenire nel periodo natalizio, complici i viaggi, i baci e gli abbracci, durante le feste. Lo stesso commissario Ficarra ha inoltre sottolineato che l'azienda farà di tutto per promuovere iniziative utili a sensibilizzare le persone a sottoporsi a vaccinazione. L'anno scorso all'adesione della campagna è stato intorno al 54%, per cui quest'anno la speranza è che si possa arrivare ad un valore stimato almeno attorno al 75%. L'influenza in arrivo metterà a letto circa 5 milioni di italiani, mentre sono stati distribuiti circa 51.000 dosi di vaccino. Disagio e protesta intanto all'ospedale Maria Patrono Arezzo a Ibla. Si accende la protesta, infatti tra dei genti e familiari stanchi di essere trattati come cittadini di serie B per la mancanza di servizi essenziali. Quando è denuncia il Codacons, da tre giorni infatti all'ospedale si opera con l'ausilio di stufe elettriche per riscaldare le sale operatorie. Sulla questione appunto c'è il Codacons che teme ripercussioni sul fronte della sicurezza e increscioso. Dicono dal Codacons che all'interno di un luogo preposto alla salvaguardia delle vite umane si possa mettere a repentaglio l'incolumità stessa dei pazienti, del personale medico e infermieristico. Primi nomi, cambiamo decisamente argomento, per la cinquantesima edizione del premio Padua già lavorò la rinnovata commissione per l'ambito premio che celebra quest'anno i suoi 50 anni di vita. 50 anni e non sentirli è il fatidico traguardo che taglierà quest'anno il premio Padua istituito alla famiglia del compianto Salvatore nel lontano 1968 per individuare l'atleta per il 2017. La rinnovata commissione del premio ha già individuato i primi nomi, gli atleti Francesco Romano, ciclista di vittoria ma che corre per i colori della società Maru, Guglielmo Pacetto, ciclitano campione di kickboxing, Federica Mazza, cestista di Ragusa, la vittoriosa Nicoletta Criscione per il tennis tavolo, Carmelo Cannizzaro per l'atletica leggera, la coppia di danza sportiva composta Giovanni Corallo e Maldivia Polini e ancora lo schermidore Massimo Arezzo, infine Maria Battaglia per gli sport paralimpici. In una prossima riunione si procederà poi ad una scrematura delle segnalazioni per ridurre il numero degli atleti in corsa per aggiudicarsi il premio Padua. In tema di commissione in orte si è registrato quest'anno l'inserimento del nuovo delegato Elcone di Ragusa, Gia Stefano Passalacqua, se invece dimesso Sassacintolo. Calcio, quella di domani in eccellenza, la giornata che potrebbe spezzare l'equilibrio in Vetta, che vede in coabitazione Biancavilla e Rosolini, che avranno davanti impegni semeri, gli Etnèi sul campo del Messina che anticipano, gli Eretusei invece in casa con lo Scordia. Viaggio in Ragusa sul campo del San Piodeci. Domani in eccellenza la lunga coabitazione in Vetta tra Biancavilla e Rosolini potrebbe spezzarsi e la giornata è infatti gli sconti diretti al vertice. Il Biancavilla è chiamato a fare punti a Messina nell'anticipo di oggi, mentre Rosolini riceve uno Scordia ancora in battute con la miglior difesa del campionato assieme a quella del Biancavilla. Poi c'è il Sant'Agata secondo dietro alla coppia di testa, atteso dalla giarre, mentre in coda è già spareggio salvezza tra Castagirone e Real Hagi. Ma c'è anche la vigilia di Avolo Atletico Catania scossa dalle dimissioni del presente Etnèo Travagin, dopo i fatti incresciosi domenica scossa nel dopo partita. E ancora c'è la prima, nella panchina del Sempio X, di Saro Decento, squadra Etnèa che riceve Ragusa. Un Ragusa tonificato come è noto dalla prima vittoria in campionato e che vorrebbe naturalmente dare un seguito a questo primo squillo. Completa il quadro di una giornata che si annuncia quindi ricca di emozioni, Adrano Camaro. In promozione invece il Marina di Ragusa potrebbe archiviare già domani contro lo sport in Prioli il discorso primato. Nuove vittorie di fila e un pareggio nel ruolino di marcio di una squadra costruita per vincere. Basket femminile al Panamilada arriva domani invece alla capolista venezia. La passa l'acqua non può sbagliare altrimenti metterebbe a rischio la partecipazione alla finale faura di Coppa Italia. Dopo la crocente sconfitta in casa con Luca per la passa l'acqua c'è domani un altro avversario particolarmente insidioso, la capolista venezia dell'ex Williams Walker e Mikovic. Nell'ambiente sportivo cestistico ci si aspetta la ragazza di recupero da una scossa, uno scatto di orgoglio dopo l'ultimo passo falso. In caso contrario verrebbe messa a rischio la partecipazione alla final faro di Coppa Italia. Servirà quindi la miglior passa l'acqua della stagione contro un avversario alle mille risorse e capacità tecniche. Un Venezia che è indubbiamente un ostacolo duro da superare e che si può solo fermare con una guardia sempre attenta e una concentrazione ai massimi livelli. Ma domani in contemporanea anche sconto diretto tra Lucca e Schio in casa delle Toscane due squadre che staranno con l'orecchia la gara del Palaminardi tifando ovviamente Ragusa. Aquile verde-arancio che quindi ci riprovano. Una vittoria direbbe un'alto senza ad una stagione nata tra mille problemi e illuminata al momento solo dalla marcia in Europa. Ma in società tutti sanno che questo cammino per le ambizioni del rostra ragusano può non bastare. Possiamo fermarci. Breve pausa dopo. Eventi Sicilia.tv Il quotidiano online Ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventi Sicilia.tv L'informazione più veloce e sempre aggiornata. Il Consiglio Comunale di Vittoria approva una mozione unitaria contro i danni in agricoltura per il Presidente Anderni Cosia. Quando in gioco l'interesse alla città c'è unità di intenti. Si tratta di un documento che riunisce le mozioni di maggioranza PD e 5 Stelle. Si chiede in sostanza, oltre allo stato di calamità, di avviare delle interlocuzioni dei confronti con le istituzioni nazionali. In vista delle amministrative raguse il PD avvia i primi incontri con la sua delegazione trattante per il candidato sindaco Peppe Calabrese. Occorre coinvolgere tutta la città. Obiettivo del PD cercare di concretizzare la prospettiva di una possibile coalizione coinvolgendo la società civile. Come soli che è unica pregiudiziale che venga fuori un progetto di estrazione di centrosinistra. Togliete quei rifiuti alla Fiera Emaia. Nuove idee democratici accendo un nuovo sconto con la maggioranza per la massiccia presenza di rifiuti lasciati nella zona dagli ambulanti. Ad una settimana dalla chiusura della campionare notevoli quantità di cartoni, plastica, lattina e spazzatura insiste ancora nell'area della cittadella. Per l'opposizione è anche una mancanza di rispetto verso i cittadini. Il presente è la camera di commercio del sud-est Pietro Agen in visita a Pozzallo. Tra i temi affrontati con la locale Ascom, il rilancio del porta a fini commerciali e turistici. Un rilancio della struttura anche per un prossimo inserimento nelle zesse, ossia le zone economiche speciali. E il porto di Pozzallo, secondo Agen, ha tutte le potenzialità per poter rendere cento volte di più. Ieri a Ragusa campagna di sensibilizzazione influde e vaccinarsi è importante, hanno ribadito i numerosi testimoni presenti, tra cui anche il sindaco di Vittoria Giovanni Moscato. L'influenza in arrivo metterà a letto circa 5 milioni di italiani mentre sono stati distribuiti in provincia 51.000 dosi di vaccino. A dare l'esempio per primo vaccinandosi, il commissario dell'ASP, Salvatore Ficarre. TG termina qui, grazie per l'attenzione. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione.